Ecco Gianluca, calcio di rigore, calcio di rigore per la Virtus Castellentano, gambetto a Gianluca dentro l'area di rigore, ecco si accinge a battere il calcio di rigore il numero 10 Gianluca Malbone, l'arbitro signor Leonzi ha decretato il calcio di rigore, sgambetto in aria ai danni del nostro numero 10, ecco batte, rete, rete, gol ha segnato Gianluca Malbone, prima rete della gara, 1 a 0 per la Virtus Castellentano, ecco la panchina la nutrita panchina di oggi, il nostro Presidente in borghese, non si è messa a punto, la nostra panchina, c'è Lorenzino, Filippo, Karan, Enrico, Alessandro Ramondi, Enrico, Fabio e Guido Saliamo, 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 saliamo ancora!